Benvenuti al fronte, fratello! 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 Rambo, rem tabii! Benvenuti al fronte, fratello! Stai! 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 Ataqueci! inchiodateli su quella posizione ragazzi in posizione ragazzi stanno attaccando attaccati attaccati Ora tenetela! Ora tenetevi, troppi di trincea! Ora tenetevi, troppi! 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 Ora tenetevi, troppi di trincea! Ora tenetevi, troppi! Ora tenetevi, troppi di trincea! Sospendete, ragazzi! Ricognizione aerea in arrivo! Artiglieria in arrivo! Preparatevi, ragazzi! Qui ci serve il supporto dell'artiglieria! Grazie! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti